Le meraviglie dei boschi italiani, tutto ciò che bisogna sapere sulle foreste italiane, dati, informazioni, curiosità, consigli, funzioni, tipi di bosco, tipi di alberi, quelli più suggestivi e quelli da visitare, raccontati in modo chiaro e semplice da un forestale che per professione si occupa di alberi monumentali, boschi vetusti, boschi da seme, boschi urbani e vivai forestali. Come vedete l'argomento è molto ampio ed è raccolto in questo libro Le meraviglie dei boschi italiani, guida sentimentale al patrimonio forestale più bello d'Europa di Alessandro Cerofolini che abbiamo in collegamento quest'oggi e che ci parlerà appunto di un bene, quello ambientale legato ai boschi che sicuramente va ancor più tutelato e valorizzato. Buongiorno e benvenuto dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti i raggi spettatori. Questo è un lavoro che nasce dalla sua esperienza, ancora prima di forestale, ma oggi prosegue nell'ambito del ministero di cui è dirigente. Ma come nasce appunto anche in questo caso l'idea di scrivere un libro che raccolga questi aspetti che possono sembrare per certi versi molto tecnici? Allora, innanzitutto in questo libro racchiude tutta la mia esperienza nel campo forestale a livello professionale che è incominciata nel 1995 quando mi sono arruolato come ufficiale nel Corpo Forestale dello Stato. Ed è continuata l'indomani della riforma madia che ha soppresso il Corpo Forestale e mi ha fatto transitare Opel Aegis nella direzione generale delle foreste, in cui in questa struttura ministeriale sono diventato direttore degli alberi monumentali e dei boschi pitusti, che è una bellissima esperienza. Il motivo di questo libro è che mi sono accorto, parlando con amici, parenti, conoscenti, che non c'è una vera cultura forestale, c'è un po' di poca consapevolezza dell'importanza del bosco e dei suoi servizi ecosistemici. È come se ci fosse una frattura tra l'Italia urbana, l'Italia forestale e montana. Cioè chi abita nelle città, quindi la gran parte dei cittadini italiani, non conosce bene i boschi, non sa distinguere un albero dall'alto, non conosce i tipi di boschi presenti in Italia e soprattutto l'importanza che anche un bosco che percepisce lontano può avere per chi vive nella città. Parliamo di protezione di ossigeno, di cattura del CO2, della medicazione di cambiamenti climatici in atto, della prevenzione per il sesso idrogeologico, della funzione turistica e ricreativa che un bosco può dare. Immaginiamo quante camminate o passeggiate facciamo nei boschi. Sempre di più persone si addentrano nel bosco, soprattutto in fine settimana, durante le ferie, perché c'è proprio questo bisogno di ritorno alla natura. Ma nonostante ciò però è un ritorno un po' romantico, cioè poco consapevole del posto in cui si entra e di chi abita quel posto, mi riferisco alla famosa del Padica. E quindi questo libro racconta un po' i boschi, è un viaggio, chiamato sentimentale, un viaggio del patrimonio forestale nazionale, dalle Alpi all'Appennino alle isole, ma raccontato in modo divulgativo, cioè partendo da dati scientifici, da dati seri, in modo divulgativo. Diversi capitoli, soprattutto per quanto riguarda i boschi, sono narrati. C'è anche l'aspetto emozionale, le sensazioni che uno ha entrando dentro un bosco. Ecco, quali possono essere, per citare magari alcune di quelle che lei vive personalmente, abbiamo già detto appunto che l'Italia è un paese forestale, ma non tutti gli italiani hanno la consapevolezza di questo aspetto e chi ce l'ha magari entra nei boschi per fare una semplice passeggiata durante le vacanze per ossigenare un po' i polmoni. Ecco, ma a cosa c'è di più nel fare questo tipo di esperienza? Beh, parliamo degli odori che un bosco offre, per esempio il profumo delle gocce di retina del tronco di un abete rosso, oppure strofinare gli aghi di un pino muco, di un pino cembro tra le narici, che sono odori balsamiche, il riposo della vista al verde, l'incanto della vista di un capriolo che corre via lontano, il senso di immenso guardando questi gliomi in alto. Un bosco offre delle emozioni e ti fa star bene. E soprattutto la cosa bella è che una volta entrati nel bosco desperiamo quest'aria, questi profumi, questi odori, li vediamo questi colori e rientriamo quasi subito in contatto con la natura. Tanto che poi ci si abitua al bosco e poi sentiamo, dopo un po' sentiamo il richiamo del bosco, il famoso richiamo della foresta che ci richiama e che dobbiamo tornare, dobbiamo tornare a metterci gli scarponi per ritornare nel bosco. Ecco, tutto questo ci introduce ad un altro tema che è fondamentale, che sicuramente emerge anche nel suo lavoro, che è quello della tutela di questo patrimonio così importante. Sotto questo punto di vista ritorniamo a quello che è il tema della custodia delle foreste nazionali, che ha vissuto anche il momento stesso della riforma, come faceva presente poc'anzi. Ma ad oggi quali ritiene possono essere dei mezzi per poter tutelare il nostro patrimonio boschivo? Allora, innanzitutto la soppressione del corpo forestale dello Stato ha comportato una diminuzione dei controlli nei boschi, una diminuzione del presidio dello Stato nei boschi e questo è grave. Ai fini invece della tutela e della conservazione del bosco, come direzione generale delle foreste noi stiamo creando una rete nazionale dei boschi petusti, che rappresentano il meglio del meglio del patrimonio forestale nazionale, stiamo aumentando la tutela degli alberi monumentali, sia numericamente, in termini numerici, stiamo riordinando tutta la normativa dei boschi di seme, che rappresentano il futuro dei boschi. E secondo noi poi questa tutela combinata boschi petusti e alberi monumentali costituisce la linea del chiave della conservazione della natura, il futuro della protezione della natura del nostro Paese. Oltre non si può andare, questa linea minima di tutela di boschi petusti e alberi monumentali dei boschi di seme non si può andare, ma si può solamente aumentare questa tutela, sia in termini equitativi, in termini di ettari di boschi protetti. E questo ai fini di lasciare alle generazioni future i boschi integri, come li abbiamo trovati noi. E' importante questo per le generazioni future. E' sicuramente il vostro lavoro, il vostro impegno quotidiano. Il messaggio del libro è anche questo, attraverso una conoscenza maggiore del patrimonio forestale nazionale, quindi una maggiore consapevolezza di quello che abbiamo intorno a casa, intorno a nostra città, è più facile trasmettere questi valori. Uno dei tanti obiettivi del mio libro è proprio questo, di aumentare il più possibile questa consapevolezza attraverso la conoscenza. Logico, non è rivolto ai laureati di scienze forestali, ma è un libro rivolto, essendo un chiave di tattica, a gradi pubblico. Certo. Però contiene principi, cioè è bello che così, attraverso la lettura di queste basi del mondo forestale, uno può entrare in un bosco più consapevolmente. E l'invito è rivolto a tutti, in quanto, come dicevamo, il nostro è un paese ricchissimo di boschi, le possibilità sono praticamente ovunque, in tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest. Sì, nel libro io illustro centinaia di boschi, di boschi, foreste, selve, dal nord al sud, dalle Alpe, agli Appennini e alle isole. Insomma, è un numero molto grosso di boschi e foreste citate. Ecco, faccio un riferimento magari più campanilistico, perché siamo a pochi chilometri dalla foresta Umbra, parliamo di boschi di foreste vetuste, è sicuramente uno dei simboli appunto di questa tipologia. Ecco, dottor Celofolino. Uno dei boschi più belli d'Italia, sì. Ecco. Dica. Un'ultima domanda. Abbiamo parlato di boschi in termini naturalistici, ma all'interno del suo libro è contenuto anche un riferimento fortemente simbolico, legato anche all'attualità che abbiamo vissuto con la pandemia, parliamo del bosco monumentale di Bergamo. Ecco, anche qui, come si inserisce il suo lavoro? Nel mio lavoro, con riferimento al bosco di Bergamo, è stato citato nel libro, perché è comunque un bosco, è un bosco iconico, più che un vero bosco, perché più che un vero bosco è un pacco di una periferia, però dà un valore molto simbolico, perché è un bosco sotto per commemorare le vittime del Covid. Il nostro lavoro si inserisce in cui, trattando e tutelando gli alberi monumentali, abbiamo chiesto alla Regione Lombardia e al Comune di Bergamo di avviare le pratiche per riconoscere almeno a uno di questi boschi piantati due anni fa dal governo Draghi, la monumentalità, ma in modo molto simbolico, appunto, per il significato, perché dietro ci sono 188 mila persone morte per Covid in questi tre anni, e può darsi che ce la facciamo. Potrebbe essere già un frutto territorio. E' proprio ieri, i 19, c'è stato il 18 marzo la commemorazione della giornata delle vittime del Covid, mentre domani è la giornata internazionale delle foreste. E quindi ci troviamo a cavallo di due momenti importanti nel quale abbiamo voluto inserire appunto il suo lavoro che vogliamo ricordare ancora una volta, edito da Altra Economia, si intitola appunto Le meraviglie dei boschi italiani. Grazie dottore, grazie di cuore. Ecco sì, lo facciamo vedere così abbiamo anche un'idea di questa bella copertina che già con il verde ci richiama. La copertina sì, è molto bella, molto bella sì, poi verde forestale. Infatti si ricollega a tutto quello che abbiamo voluto anche anticipare. Grazie dottore, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci a tutti quanti.